buongiorno a tutti gli amici di radiogassino 1 oggi avrei voluto leggervi una delle mie storie e invece preferisco leggere una poesia e perché leggerò questa poesia perché oggi è una giornata particolare è una giornata che festeggia il 69esimo anno di età del scrittore diego manca che io conobbi esattamente 11 anni fa a firenze nel salotto letterario della poetessa lucarini e questa poesia mi è molto cara secondo me è una delle più belle che diego manca ha scritto perché io la conobbi lì tutti quanti dovevamo recitare una poesia e quando è venuto il suo turno lui non c'era e nessuno riusciva a trovarlo io ero molto curiosa di conoscere diego manca sargo come me niente a un certo punto è arrivato col sigaro in mano scusate ero a fumare il sigaro quindi lui prima di leggere questa poesia era a fumare il sigaro rosas memento spargere di diego manca ricordati di spargere le rose che la madre natura ti ha donato sono sorrisi parole armoniose un tocco un gesto un bacio appassionato non sai che le persone generose investono in amore e nel creato i dividendi sono pagati in prose musiche canti e rime amorose buon compleanno amico mio e scrivi tantissime di queste belle poesie ricordatevi che i poeti possono scrivere centinaia di poesie ma ce n'è sempre qualcuna che è più bella delle altre ricordate quella di dino campana dedicata proprio alle rose ecco anche questa poesia di diego manca è una delle più belle un saluto a tutti e buon compleanno amico mio